Perfetto Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul canale Abbiamo una nuova modalità, quella del deathmatch e del team deathmatch Ce ne saranno veramente delle belle Hanno modificato tantissimi eroi Hanno introdotto la mappa deathmatch Che è quella di Widowmaker Chateau Gilleac Guardate la nostra sombra qui, nello chateau Allora, andiamo in arcade Bellissimo, mamma mia Proviamo immediatamente questa modalità Madonna, vediamo lo Chateau Gilleac McCree ovviamente Mamma mia che bello McCree è uno degli eroi più favoriti in questa modalità Perché per fare i vostri pick Voi dovete pensare a tutto quello che i vostri avversari possano prendere È la prima volta che provo questa modalità Oddio Allora, ragazzi sto un po' inquietato Ok Sono un po' inquietato Che ho rubato la kill Che divertimento Dicevo, McCree è un ottimo eroe Perché i pick di Phara sono normali Quindi Questo è stato stupido Bisogna anche giocare molto di medikit Questo mi fa il culo Ma che si avvicina Quindi Mi devo allontanare Ok, qua No Che brutto Ok, rispondiamo Ragazzi ci stiamo quasi avvicinando A questo Reaper bastardo Vediamo di fottere a questo Perfetto Siamo nel mirino Affanculo Reaper bastardo Madonna che Che figata Mi devo andare di qui Mi serve medikit assolutamente Perfetto Sono on fire E sono primo Vai così No, per poco Per poco Adesso posso rispondare Ho il mezzogiorno 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 No, bastardo Ucciso Là c'è Phara Puttana Aia Ah, peccato Peccato Devo rispondare assolutamente Devo vincere questa partita Bellissimo Ammazziamo Phara Aia Anzo Vabbè Ma cos'è sto telefono Il telefono Come sempre Pronto a dare fastidio Non lo lasciamo in video Perché è il momento di qualità Questa la perdiamo E' peccato C'è un po' più di precisione Vediamo un po' Io sto 11.5 Vediamo un po' C'è qualcuno di qui No, bellissima modalità comunque Mamma mia E' mezzogiorno Ne ammazza due Questo mecri Ho ucciso il soldato Con ben quattro colpi Qua Chi c'è? Ok Soldato Che non dico ammazziamo Però Quasi Scimeno Scimeno bastardo Dov'è? No, sono caduto Come un coglione Sono caduto Dai, che figura di merda Devo vincere A tutti i costi Devo superare Scimeno Sono io Sono io il mecri più forte Perfetto Ammazziamo pure Le rip No, che figura di merda Dai, però Che figura Ma ce l'avevo Vicino Non sto giocando Eccessivamente bene Devo risuperare Scimeno Dai Ammazziamo Farah Ok Sono io On fire Però devo prendere Il medikit Farah No, che palle L'avevo quasi uccisa Eh, ho aiutato Junkrat Bella roba Vediamo se qua C'è qualcuno Da uccidere Mezzogiorno E muoresci Scimeno Vai così Pazzo Junkrat Che mi uccide Penso Mi vuole fregare Qualcuno Bastardo Game mode About stealing kills Beh Mi piace No, che palle Eh, sì Mi ha rubato pure lui La kill Uccidiamo Junkrat Dicevo Genji No Aia Eh, mi ha ucciso Dei dasti Niente da fare Scimeno Guadagna un punto Dai Chi ci vuole prendere Un Junkrat Di merda Ok Dai Devo prendere Il medikit Assolutamente Questo non lo posso Flashare Perché sicuramente No, mi ha rubato La kill Ma che palle Eh, vaffanculo Veramente Dai, dai Devo recuperare Su Prendiamo A questo Soldato Oh, mezzogiorno No Eh, dai Figura di merda Però Porca Madonna C'ho una mira di merda Vediamo qua Qua c'è qualcuno Reaper Madonna Sto peggioro un sacco Ok Ucciso Qua c'è Junkrat Ucciso Mezzo Oh, no L'ho ucciso Per pochissimo Là c'è un altro McRee Dai Duello Lo vince lui Ovviamente Si aggiunge 20 Ma muore Scimeno Ucciso Due kill Ammazziamo Questi Dai Ci ho quasi fatta Dai La Flash Si E si vince Mamma mia Bella così Madonna Difficile Difficile McRee Funziona tantissimo Qui Però Ho giocato Non ho giocato al massimo Le mie aspettative Cioè Ho mancato Alcuni colpi Sono morto Abbastanza volte Però Che modalità Spettacolare Una tensione Incredibile Vediamo invece Il team deathmatch Come funziona Vabbè Come ne posso andare Cortesemente Proviamo il team deathmatch Ma che spettacolo Ragazzi Io muoio dalla voglia Di giocare con voi Quindi Quindi In descrizione Buonanotte Nei commenti Scrivetemi il vostro Battle tag Insomma Aggiungetemi Fate qualunque cosa Voglio giocare con voi Ho anche un server discord Quindi possiamo parlarci lì Siamo adorato Io non so bene Come funziona Devo solo continuare Ad affermare Che in deathmatch Almeno in quello singolo I migliori eroi Sono A mio parere Soldato E McCree Perché sono Personaggi Che possono Veramente Counterare Parecchi eroi Il vero problema È fara Perché molti problemi Eh Molti problemi Perchè Molti Persuaggi Non riescono A counterare Ad esempio Genji È difficile Che lo counter Ecco Qua c'è Junkrat Ok Già abbiamo Una kill Ok Qua il nostro Torbion Si mette come vedete Pure Torbion Non è Una brutta scelta Ecco Anche Roadhog Non è una brutta scelta Junkrat È strano Da dire Veramente Vediamo il nostro Lord Jeraxus Come muore Vedi Si può muore Bellissimo Bello proprio Stiamo andando bene Ovviamente Noi non abbiamo Le cure Vediamo un po' Se possiamo Aiaia C'è lo spawn Via 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 di qui Aia Mi hanno fatto male Non vedo le cure Dove sono i medikit Prima mi arriva una bomba Ai junkie in faccia Non ci sono le cure Ah Eccole qui Meno male Oh E il Junkrat nemico Ha fatto male Al nostro Diciamo Vabbè Non ho visto che è morto Ragazzi Sapete Benissimo Che Quando gioco Overwatch E commento insieme Dimento Un pochino più Disabile Ecco Senza offesa Ovviamente Ma quindi lo spawn è qui Non penso È scorretto No È scorretto Aia Un altro vecchie No Mi ha fottuto Pensavo di Poterlo uccidere Ok Con spazio Risponiamo Vabbè Che arriva prima 20 Mi sa Giusto Stia andando Benissimo Stia andando Veramente bene Qua c'è Junkrat 8 a 3 Attenzione Di lì c'è un altro Torbio Non mi sa No O è il nostro Che butta Cose Vabbè Ok La sua ulti È pronta Io voglio Aia Voglio andare da questa parte Che devo fare il mezzogiorno È mezzogiorno No Peccato Che quel genji Si è Riparato Lì Ottima torretta Di torblerone Però noi stiamo Morendo Sempre di più Là c'è Junkrat Che muore Aia Aia E qua muoio io Perché mi ha fatto con la ulti Ok Rispono qua sopra Ottimo Sono bronzo Brutto Brutto a dirsi Devo uccidere Questo No Che palle È morto Per colpa della mia Pallotto a deflectante Colpisco i genji Solo quando Sono sicuro Mi faccio in deflect Sto colpendo Quel McCree Ottimo Qua sta salendo qualcuno Stupido Perfetto Meno male Ho missato un colpo È morto Terissimo Avevo letto Tenerissimo Pensavo fosse una cosa Tipo Madonna Ha fatto la doppia Con il Con i missili Bellissima Aia Fire in the hole Forse arriva da me Infatti Perfetto L'ho distrutta Ammazziamo Quazerti Madonna E anche Questo tenerissimo Genji Ok Quasi morto Si avessi un po' più di mira Perfetto Qualcuno mi sta sparando E vabbè Ci mancano solo 10 kill Perfetto Stiamo andando Ovviamente Bene Perfetto Perfetto Un timing Eccellente Per poter Defectare Olè Quel Genji Ottimo Dai così Qua muore Un nostro Componente Ammazziamo A Roadhog Ottimo Dai 24 a 12 Sento una Widowmaker Armatura Il nostro Torbion Il nostro Torbion E' arrabbiato Adesso muore Widow E' mezzogiorno Non succede niente Ammazziamo Lordo Jaraxus E' mezzogiorno Nooo Chi mi ha ucciso Widow Mi sa Boh Mi è uscito Chi mi ha ucciso Genji Vabbè Vado a fare Ultimi kill Dai che è morto Oh oh Dove è? Ti cito io col pugno Bastardo Dai che faccio Ultima Visual Tattico Attivato Ammazziamo Lordo Jaraxus Ok Bellissima modalità Ragazzi Dovete farmi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Io vi ripeto Che ho Molta intenzione Di giocare con voi E' Fantastica Come modalità Che dire Sarebbe bello Anche organizzarci un torneo Grazie mille Per avermi seguito Voi trovate il link Ai miei social In descrizione Mi raccomando Passate soprattutto Sul gruppo Telegram Per non perdervi Nulla Che dire Iscriviti Se non siete ancora iscritto E ci si becca Al prossimo video It's Hanun Al prossimo video Grazie a tutti